93 tennisti iscritti arrivati da tutto il mondo, 14 tabelloni disputati quasi tutti nel maschile con due sole eccezioni nel femminile. Dopo una settimana di gioco sui campi del tennis Como si è conclusa la terza edizione dell'Hilton Lake Como Championship, torneo del circuito internazionale ITF Senior. I giocatori in arrivo da Europa, Asia e America, anche se i successi alla fine sono stati quasi tutti per i colori italiani, con la sola eccezione di Gianandrea Mocetti, svizzera, nell'over 30. Il tabellone più partecipato è stato quello degli over 55 con la vittoria di Massimo Branda. Gloria anche per i giocatori tesserati in provincia di Como con i successi di Claudia Cappellani del tennis Como tra le Lady 50 e quella di Primo Veneri vincitore sia nell'over 65 sia nel doppio over 60 in coppia con Marco Dedè. Da segnalare anche la doppia vittoria per Marco Bianchi sia nell'over 50 sia nel doppio misto over 50 in coppia con Monica Giamberini. Infine, nella categoria degli over 80, successo per Giancarlo Milesi. Siamo soddisfatti, ha commentato Chiara Sioli, presidente del club di Villa Olmo. La settimana è andata bene, nonostante il grande caldo che ha pesato sui match. Abbiamo cercato di far giocare più partite possibili in serata. Ora, dice, l'obiettivo è quello di salire di livello rispetto a quello attuale di ITF Senior 200. Il giudice arbitro è rimasto soddisfatto dell'organizzazione e questo, conclude, è il primo tassello fondamentale per crescere. Grazie. Grazie.